si respira entusiasmo in casa cittadella dopo l'importante successo colto dai granata nel derby con l'ex capolista venezia c'è grande gioia spiega stefano marchetti dg del club veneto virgola questa vittoria ci permette di ritrovare certezze che avevamo un po' perso nelle ultime partite ci abbiamo messo cuore e grinta quello che serviva per battere questo venezia la squadra ha dimostrato di essere competitiva mettendo in campo la giusta determinazione una bella reazione dopo due sconfitte